Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti in un nuovo video, oggi nuova storia Ho visto che questo format delle storie non vi spiace così tanto, quindi ho deciso di portare un'altra storia In questo video ne vedrete circa tre, diciamo Una è quella che riguarda il mio primo giorno di scuola, nel quale sono comprese due storie E poi c'è un'altra invece che riguarda un giorno di scuola del primo anno Vi dico solo ragazzi come piccolo spoiler che ho litigato con il professore di latino che mi ha messo in punizione Ho fatto una figuraccia sia con la professoressa d'inglese e poi una grandissima ancora figuraccia con il professore di fisica Capirete poi perché Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video di questo tipo che arriveranno Lasciare un like così mi fate capire che questi video vi piacciono E intanto io vi lascio, quindi beccatevi sto capolavoro Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'itemshop nella sezione supporto a un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo Poi accettate e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Noto che ho un ping di scavolo Veramente tragico Anche utilizzando il LAN e il PPOE Quindi questa partita facciamocela easy O magari ne parlo già della storia non lo so sono un po' indeciso Allora ragazzuoli allora io direi di partire Io la... il mio primo giorno di scuola ragazzuoli vi dico subito proprio la data precisa Perché lo stesso giorno di scuola io mi pare avessi anche il matrimonio tipo di mio zio Quindi lo ricordo abbastanza bene Era l'11 settembre del 2015 Come potete immaginare ragazzi io in realtà il liceo l'ho finito proprio a giugno Quest'ultimo giugno ho preso... ho fatto la maturità Per chi non avesse visto il video c'è Magari ve lo lascio poi come scheda finale Parliamo un po' di questo primo giorno di scuola Vi dico da subito che ho fatto il liceo scientifico Allora ragazzuoli ho scelto questo liceo scientifico E sono... sono andato fondamentalmente in questo liceo Insieme ad un mio amico delle medie Ho fatto con lui il cosiddetto gemellaggio ragazzuoli Il gemellaggio... madonna Il gemellaggio è quella cosa insomma che tu puoi andare con un tuo amico nella classe E io avevo scelto appunto questo mio... Ah... avevo scelto come amico questo mio amico Simone Madonna questo tizio veramente quanto c'ha la mamma simpatica Primo giorno di scuola E questo 11 settembre 2015 Io e Simone ci incamminiamo all'interno del cortile di scuola Fuori diciamo fondamentalmente da scuola stavano tutti i ragazzi del primo anno Perché mi pare che il primo giorno avessero fatto andare solo quelli del primo e secondo anno E ho il biegno Quindi tutti i ragazzi del primo anno dovevano aspettare fondamentalmente fuori Che venissero chiamati per sapere anche la sezione Semplicemente andiamo Ci mettiamo lì fuori e aspettiamo i nostri nomi Simone eccetera eccetera E Luca eccetera eccetera Comunque veniamo chiamati nella nostra sezione Ci sediamo ai banchi Tra l'altro ci hanno dato una classe che poi avremmo cambiato stesso il giorno dopo E ci accoglie un professore Ok, il professore di matematica Devo dire la verità il professore ci ha messo subito al mostro agio Era un professore bravo Molto gentile Anzi forse troppo gentile con gli alunni E niente Non ci fa ovviamente fare fondamentalmente nulla il primo giorno E di presentazione nulla di che Comunque Passa l'ora di matematica E poi abbiamo l'ora di inglese La mia professoressa di inglese Che io porto nel cuore proprio Che ho avuto poi fino al quinto anno Mentre invece che a matematica l'ho cambiata al secondo anno Entra inglese alla seconda ora In inglese la vedi subito Una tipa che sa il fatto suo Molto autoritaria Però alla fine sotto sotto è una pasta di pane Comunque Si presenta Noi ci presentiamo E vabbè Diciamo che io in inglese all'epoca non me la cavavo benissimo Perché non avevo fatto ancora il british Ormai ho il cuneo eccetera eccetera Però ai tempi non ce l'avevo Tutta questa bravura in inglese Quindi niente Ci presentiamo Ci fa fare qualche presentazione in inglese Solita cosa E va bene così Però poi fa ragazzi Il libro che utilizzeremo Si chiamerà best choice E indica Simone Che si era seduto vicino a me Simone fa No no Io non le so queste cose Chiedi a lui Allora La professoressa fa Va bene Allora chiedo al tuo compagno di banco Tu come ti chiami Faccio io Luca Eh Luca Fammi un po' lo spelling di best choice Allora io tranquillo Perché tanto lo spelling L'alfabeto Ho detto vabbè Cosa può mai andare storto Ora ve lo so fare Semplice perché B-E-S-T-C-H-O-I-S-C Ai tempi Non era così easy E quindi cominciai a fare Sì sì Allora B B-B-B-I-I-S-T-T-C- moral Vabbè Comunque ragazzi Fece un casino Quella fece Vabbè Diciamo che la prossima volta Prima di iniziare Ripeteremo l'alfabeto Io attualmente Che in inglese So parlare Molto bene Ai tempi Feci venire il dubbio Alla mia professoressa Di se fossi capace A dire l'alfabeto Ok In inglese Ma questa Non è la cosa Più tragica, a parte Simone Sdicissimo che mi mette In una situazione gravissima da quel momento Non si può perdonare Simone Non lo perdonerò mai Se stai guardando questo video ti odiamo Non è bello, la cosa più grave È che durante quell'ora ragazzuoli Entra praticamente Una persona, ok Una persona che non pensavo fosse un professore Entra, guarda un po' il registro Saluta la professoressa e se ne esce Io dopo dovevo andare in bagno Quindi che faccio? Esco Con la massima tranquillità del mondo E chiedo vicino a questa persona chiamandolo Bidello Pensavo quando fosse un Bidello Scusi Bidello sa dirmi dov'è il bagno Fa lui, guardi Io in realtà sono un professore E faccio Professore E lì specifica poi sono un professore di fisica E si dia il caso che sono il tuo professore Faccio io Ah, è piacere Professore di fisica E ragazzi, è lì E dove mi sono scavato la foto No, non è vero Non è vero ragazzuoli Perché poi in fisica Io me la sono sempre cavata Sono sempre andato bene Ma ragazzi Mamma mia Che cringe Che fu quella cosa Io torno in classe da Simone Facendo bro Bro Ho fatto una cazzata Bro Bro Mi sono fottuto tutti gli anni Di vita Ho chiamato Bidello Ho chiamato Bidello Il professore di fisica Che abbiamo E lui tipo È tipo bravo Ottimo Primo giorno di scuola Bro Mamma mia ragazzi Che cringe Veramente Non potete capire Cioè io veramente Non so che dirvi Non so che dirvi Non si dice Bidello Si dice collaboratore scolastico Avete ragione Quindi Anche se fosse stato un Bidello Ho sbagliato Vabbè ragazzi Ma ai tempi Magari ero anche Un po' più piccolino Cioè non lo feci con cattiveria Lo feci in maniera Molto ingenua A chiamarlo Bidello Oggi Se ovviamente mi dovessi Fronteggiare Se dovessi parlare Con un Bidello Fondamentalmente Mi limiterei A fare scusi Mi sa dire Dov'è Cioè Dando dei delay Perché poi La cosa più bella Anzi Più bella Diciamo più grave È che nel momento in cui Lui entrò in classe A farci la prima lezione Poi qualche giorno dopo Lui si presentò Fece Sì io sono il vostro Professore di fisica E guardò me Fece E non il Bidello E in quel momento Io e Simone Ci guardammo in faccia Io e il mio amico Ci guardammo in faccia Perché eravamo gli unici Che potevano capire Perché lui stesse dicendo Quella cosa Cioè E mi fece una faccia A dire fra Sei morto Perché pensavo Che quello da quel momento Mi avrebbe tipo Menato la vita Capito Perché se uno ti dice così Dici vabbè Mi sono fatta la frittata Invece no Invece no Perché fisico Una delle mie materie preferite Quindi mi misi sotto E ma mi sia studiato Quindi tutto a posto Tutto a posto Ragazzuoli Allora No no Posso raccontarvi Questo evento Posso raccontarvi Questo evento E sempre al primo anno Dovete sapere Che io facevo latino Ok Perché ho fatto Un liceo scientifico Tradizionale Non un liceo scientifico Magari Particolare Che faceva fare più scienze O informatica Avevo un professore di latino Molto molto autoritario Ragazzuoli Veramente Abbastanza incazzato nero Ecco Diciamo che si faceva rispettare Comunque bella bro Complimenti per esserti fatto menare E niente Comunque Era un professore Che ci teneva al latino Era molto bravo a spiegarlo Però Non era un simpaticone Ecco Non era un simpaticone Sta di fatto che Appena si presenta a noi Al primo anno Diciamo che si fa Si fa valere Ecco Si fa sentire Come un professore Che sa il fatto suo Da mamma mia Cosa sta succedendo Alla mia arma Comunque ci dice Diciamo Durante la prima lezione Ragazzi Io Posso capire Che voi Non riuscite a capire il latino Posso capire Che voi Avete difficoltà E vi aiuterò Ma se c'è una cosa Che io odio Ancora di più Del fatto Che alcuni alunni Non studino È La mancanza di rispetto E una Tra le mancanze di rispetto Che molto spesso Gli alunni Danno per scontato È il ritardo La mattina Noi abbiamo diverse prime ore Perché avevamo prime ore Quasi tutti i giorni Ragazzi Avevo Mi pare tre ore di latino Tre volte alla settimana C'avevo lui Mi fa ragazzi Se uno di voi Fa ritardo La mattina Io Così come sta Lo interrogo Subito Lo interrogo E mi deve dire La versione del giorno Le declinazioni E tutto quello che faremo Allora che faccio Mamma mia No Perché ragazzi Io sono un ritardatario Cronico Io non ho mai fatto Non sono mai arrivato in orario Nella mia vita Qualunque cosa Ragazzi Voi non avete idea Di come io sia scandaloso Mo di meno Mo di meno Però ragazzi Una volta Ero veramente Scandaloso Comunque Saputa sta notizia Io ho già messo a scavare la tomba Perché dovevo tipo studiare latino Tutti i giorni Sapendo che Mi avrebbe interrogato Per forza No Qualche giorno dopo Abbiamo sto professore Ormai era Già una fase un po' Diciamo avanzata Ecco Era già una fase Avanzata Delle lezioni Delle lezioni Avanzata Avevo vinto Non me ne ero manco accorto Vabbè Parlando Non me ne ero manco accorto Comunque Una mattina Che avevo il professore di latino Mi sveglio Io entravo a scuola Agli 8 e un quarto Ragazzi Sono le 8 e 20 Cioè io dovevo stare Alla scuola Agli 8 e un quarto Erano le 8 e 20 Oh Fra 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 Che panico Panico Calmo calmo Mamma mia Allora Comunque Sta di fatto che Che faccio Mi sveglio Quindi tardi Nel panico Faccio Mamma Dobbiamo correre Va vado Mia madre corre Tipo tra le macchine Tipo a Steam Furious E arrivo a scuola Io fuori la scuola Noto che sono tipo Le 8 e mezza Io penso tra me e me Mia madre ormai Se n'era già andata Ma quasi quasi Entro in seconda Ora Dai Cosa potrà Mai andare Storto Aspetto che si facciano le 9 In modo che Fondamentalmente Il professore Non si In questo modo Il professore non si Sarebbe incazzato Se fossi entrato Perché tanto era le 9 Sarei Entrato in seconda ora E quindi non valeva Come ritardo Diciamo Perché E sarei entrato alle 9 Io di solito così facevo Quando facevo troppo ritardo Entravo Alle 9 Ecco Perché non valeva Nella mia testa Come ritardo Comunque che faccio Quindi aspetto Fino alle 9 Sono le 8 e 50 A un certo punto A un certo punto Sento una voce Che mi chiama E fa Ma cosa stai facendo Luca Io mi giro Nel panico Faccio il mochie Ma che cosa vogliono Dalla mia vita Mi giro E ragazzi Era il mio Professore Un mio professore Che incazzatissimo Mi fa Ma cosa stai facendo Vuoi entrare a scuola Io lo dico a tua madre Io lo dico di qua Ti faccio mettere una no E io Ok 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 Entro entro Va bene va bene Entro Non ho nessun problema Entro Ok entro ragazzi E sono tipo le Vabbè ho più o meno 8 e 50 Verso quell'orario Era fondamentalmente Comunque sta di fatto Che il professore entra Tutto Tutto incazzato Fa vicino Al mio professore Di latino Senti Questo ragazzo Luca Stava fuori Ad aspettare Che finisse l'ora Per entrare in seconda ora Voleva evitare La tua lezione Non è proprio Andata così Giuro Tra l'altro Luca Che mi elimina Comunque Di fatto il professore Di latino Mi guarda Fa Sì Sì Allora faccio una cosa In primis Vieni interrogato Come se fossi entrato in ritardo E ti becchi pure una punizione Come perché va tutto a rotoli Nella mia esistenza Niente Vengo interrogato Sono andato Non è che fosse andato così bene Perché in realtà Non mi ero preparato Per quella giornata Però fortunatamente Comunque avevo fatto i compiti Quindi Me ne esco con un 7 e mezzo politico A mia discolpa E Niente Poi come punizione In realtà cosa successe Io Una volta preso La cazzata Insomma Mi sei letto Al mio posto Insomma presi posto E il professore Si alzò Mi guardò Si alzò Io entrai facendo Vabbè prof In realtà ho fatto tardi Che colpa mia Che ci devo fare Il professore ha detto Che stava aspettando Però in realtà Cioè ho cercato Un po' di divagare Dicendo Vabbè io in realtà Stavo arrivando Ho cercato un po' Di appararmi Poi quando l'altro professore Se n'era andato Quando ormai L'altra campana Che mi dava contro Non c'era più Comunque dico Vabbè professore A un certo punto faccio Vabbè professore Ho fatto tardi Di chi è la colpa Mi giro e me ne vado a posto Ragazzi Manco il tempo Di mettermi a posto Il professore Mi tipo Spacca un libro sul banco E fa Tu Mi fai questa versione La prossima volta Per la prossima volta Voglio tutta questa versione Analizzata Grammaticalmente Sintaticamente E con la traduzione E me la fai sentire Perché non ci si rivolge Così a un professore Io tipo Ok Pro Niente ragazzi Questa era la storia Anche di come Mi sono intossicato Col professore Di latino Che bella la mia vita Ragazzoni Eh lo so E lo so Però mia discolpa A parte tutto Devo dire che poi In latino ho preso 8 Al secondo quadrimestre E il voto più alto Insomma che c'è stato Poi Alle pagelle Mia discolpa Posso dire questo Mia discolpa Posso dire questo